Il percorso 9 del vostro libro di geografia è l'ultimo percorso che si occupa di aspetti della geografia umana. Infatti l'economia è strettamente legata alla geografia. Esiste anzi una branca della geografia che si chiama geografia economica che mette in relazione i tipi di territori, i tipi di distribuzione di popolazione, i tipi di insediamenti politici strettamente collegati allo sviluppo delle attività economiche. Andiamo a vedere meglio che cosa vogliamo dire. Innanzitutto vediamo cos'è l'economia. L'economia è l'insieme delle risorse e delle attività produttive e dei servizi in un determinato territorio. L'economia infatti fornisce i mezzi di sussistenza, influisce, modifica l'ambiente, determina i movimenti migratori di intere popolazioni anche da paesi economicamente più svantaggiati verso paesi più ricchi dove c'è più disponibilità di lavoro e influisce sui rapporti tra i popoli. Immaginate i paesi produttori di petrolio che insaurano un tipo di rapporto con gli altri paesi. a volte a causa del petrolio, purtroppo ultimamente ci sono molte guerre nel mondo. Quali sono i principali indicatori geo-economici, cioè che riguardano la geografia economica? Il PIL e il PIL pro capite, come abbiamo visto nei primi capitoli di geografia, il PIL è il prodotto interno lordo, ossia la ricchezza prodotta da un paese, da un determinato territorio, nell'arco di un anno. Il PIL pro capite è la ricchezza prodotta da ogni cittadino. Questo indicatore è molto importante per capire la situazione economica di un territorio. Se il PIL è in crescita, se il PIL aumenta costantemente di anno in anno, l'economia sarà in crescita. Se il PIL rimane sempre uguale o addirittura decresce, si avrà una stagnazione o una recessione economica. Quindi quando andrete l'anno prossimo a analizzare tutti i diversi paesi d'Europa, uno dei primi indicatori che si andrà a guardare quando si affronterà l'economia di questo paese sarà proprio il PIL. L'altro indicatore è la forza lavoro, perché a seconda della forza lavoro impiegata si determina il livello di disoccupazione, la mancanza di lavoro in quel paese che, come abbiamo detto, influisce molto anche sui movimenti migratori. Quindi sono due indicatori fondamentali quando si affronta l'economia in geografia. Tradizionalmente in geografia l'economia viene divisa in tre settori, il settore primario, secondario e terziario. Il settore primario comprende tutto ciò che è legato alle risorse naturali di un paese e quindi l'agricoltura, l'allevamento, la pesca per i paesi che si trovano sul mare e la silvicoltura, ossia la presenza di foreste e il conseguente sfruttamento del legname. A seconda della conformazione del territorio, della fertilità del territorio, della frequenza delle piogge, della presenza o meno di rilievi di laghi, di fiumi e di mari, il settore primario sarà diverso da paese a paese. Un paese ricco di fiumi avrà delle grandi pianure alluvionali, quindi un'agricoltura più sviluppata, un paese collinare con molti pascoli avrà l'allevamento più sviluppato, un paese sul mare ovviamente avrà tra le due prime risorse del settore primario la pesca e così un paese con molte foreste beneficerà dello sfruttamento del legname. Per quanto riguarda il settore secondario, è il settore anche detto manifatturiero, cioè le risorse primarie che vengono elaborate dall'uomo, attraverso dei cicli di produzione vengono trasformati dagli uomini. Nel settore secondario troviamo l'industria che produce degli oggetti, dei prodotti a scala industriale, quindi in un gran numero. L'artigianato invece che è fatto dalle piccole botteghe che seguono dei procedimenti tradizionali e manuali per realizzare i loro prodotti, è l'edilizia che modifica l'ambiente e il territorio attraverso la costruzione delle infrastrutture e delle abitazioni e degli edifici pubblici. Abbiamo poi il settore terziario che è il settore dei servizi. Cosa sono i servizi? I servizi sono una serie di cose che permettono lo svolgimento di alcune attività e quindi i trasporti intesi sia come i mezzi di trasporto che come le infrastrutture, cioè strade, autostrade e ferrovie. Il commercio che movimenta i prodotti, le comunicazioni che mettono in relazione diversi paesi, il turismo che permette lo spostamento e quindi lo sviluppo del commercio spostando masse di turisti e masse di persone, e poi abbiamo anche i servizi pubblici, tutta una serie di servizi che sono di pubblica utilità, i servizi di polizia, i servizi sanitari, i servizi scolastici e così via. Questi sono i tre grandi settori dell'economia che l'anno prossimo, quando andrete ad affrontare diversi paesi, andrete ad analizzare nello specifico, quando parlerete di economia. In Europa l'economia si può più o meno dividere in diverse zone. Nell'Europa occidentale abbiamo i principali paesi dell'Unione Europea, con una ricchezza ben distribuita, anche se in alcune fasce sociali sono presenti situazioni di povertà. L'Europa centro-orientale, comprende i paesi di Polonia, Ungheria, paesi baltici, la Russia e altri paesi minori, ha una ricchezza non ben distribuita, ma concentrata nelle mani di poche persone o di pochi gruppi di persone che sono molto ricchi, con la maggioranza della popolazione che invece vive in condizioni di estrema povertà. Poi abbiamo l'Europa sud-orientale, che comprende Romania, Serbia, Bulgaria e Turchia, dove la ricchezza invece è mediamente distribuita. Al di fuori di queste grandi divisioni regionali, di questi grandi gruppi, ci sono paesi molto ricchi, ricchissimi, quelli in verde scuro, vedete la Svizzera, il Lussemburgo e la Norvegia, per esempio, e paesi molto poveri come la Bosnia, l'Albania, la Moldavia e l'Ucraina, questi nel colore più chiaro. Quindi più o meno territorialmente l'economia europea si può distribuire in queste grandi zone. Il settore primario in Europa comprende quattro colture principali, i cereali, che sono coltivati in tutta l'Europa occidentale, centrale e meridionale, i più diffusi sono il grano, mais e il riso, e sono consumati sotto forma di farina, pane, pasta e biscotti e altri elementi da forno. Poi abbiamo le piante industriali, quelle che forniscono zuccheri e oli all'industria agroalimentare e conserviera e mangimi agli allevamenti, tra cui i più diffusi sono la soia, la barbabietola da zucchero e il girasole. Poi c'è la frutticultura, che comprende alberi da frutto di vari tipi. Nell'Europa atlantica, cioè quella sull'oceano atlantico e quella centrale, prevalgono frutti come le mele, le pere, le ciliegie e l'uva, mentre nell'Europa meridionale, dove fa più caldo, ci sono abrumi, ulivi, mandorle, uva e angurie. La quarta coltura è quella degli ortaggi, che essendo coltivabili in serre, si possono adattare a tutti i tipi di clima e sono più facilmente coltivabili della frutta. Tipicamente mediterranei sono i pomodori, i peperoni, le melanzane, i fagioli e le zucchine. Tipiche del clima continentale sono le patate, i cavoli, gli asparagi, le zucche e le cipolle. Per quanto riguarda la pesca, è sviluppata in tutti quegli stati che ovviamente hanno un lungo tratto di costa, Francia, Regno Unito e Norvegia. È praticata con grandi imbarcazioni, chiamate pescherecci d'altura, che spesso sono uniti di sistemi di rilevazione per rilevare i branchi di pesce e di impianti di pulitura e congelamento direttamente a bordo. Alcuni paesi, come la Francia, praticano anche l'acquacoltura, c'è l'allevamento di pesci e di frutti di mare pregiati nelle loro acque. Infine, la silvicultura riguarda la conservazione delle foreste e mira ad ottimizzare lo sfruttamento economico dei boschi. Le principali foreste sono in Russia e nella penisola scandinava. Forniscono legname per l'industria della carta, del mobile e dell'edilizia. Per quanto riguarda il settore secondario, ossia industria e manifattura, in Europa è molto sviluppata l'industria automobilistica, soprattutto in Germania per le auto di grosse cilindrata, in Francia e in Italia per le auto piccole e medie, in Italia si producono anche mezzi agricoli e autocarri. L'industria alimentare è sviluppata soprattutto in Francia e in Italia e si occupa della produzione del vino, dell'olio e delle conserve. L'industria tessile, quella più antica e più famosa, è nata tra Francia e Italia, anche se ultimamente questi paesi non riescono a reggere la concorrenza di altri paesi europei o anche extraeuropei, dove il costo del lavoro in questo settore è molto più basso, come ad esempio la Romania, l'Ungheria e la Turchia in Europa, e la Cina e l'India e il sud-est asiatico in Asia. In Europa è molto sviluppata anche l'industria meccanica di precisione, soprattutto in Germania e in Italia, che però ha delle dimensioni piccole e medie in Italia, invece in Germania abbiamo la Brown, la Philips, o anche in Svizzera la grande industria dell'orologio e del cronometro di precisione. L'industria del lusso è rivolta soprattutto al commercio estero ed è sviluppata in Italia e in Francia. Immaginiamo la produzione di yacht, l'alta moda italiana, eccetera, eccetera. L'industria climica si occupa della raffiliazione del petrolio, è presente soprattutto in Paesi Bassi, Francia e Regno Unito, che hanno delle piattaforme per otrolifere al largo dei loro mari, ma anche in Italia, in Spagna e in Russia. L'industria pesante, quella siderurgica e metallurgica, sono quasi del tutto scomparsi in Europa, un po' per le norme anti-inquinamento che proibiscono di usare il carbone in Europa, emanate dall'Unione Europea, e un po' per la concorrenza dei Paesi in via di sviluppo, soprattutto la Cina e l'India. L'industria navale svolge infine un ruolo importante, soprattutto in Norvegia, Svezia e Italia, dove ci sono gli armatori più famosi di Europa. Il settore terziario, ossia quello dei servizi, si sviluppa in Europa secondo quattro direzioni. Il settore delle comunicazioni, attraverso la telefonia, la radio, la televisione e soprattutto internet ultimamente, informa le persone e determina le abitudini e influisce sulle idee delle persone. I trasporti non riguardano solo i mezzi di trasporti pubblici o privati, ma anche le infrastrutture, come detto ad essi collegati, strade, autostrade, porti, aeroporti. Molto sviluppato il settore dell'economia e della finanza, soprattutto in Germania e in Svizzera, ci sono le più grandi banche del mondo, riguardano anche il settore del commercio e anche ciò che a esso è collegato, ossia il settore degli investimenti e delle assicurazioni. Per quanto riguarda i servizi pubblici, abbiamo detto che si occupano della pubblica istruzione, della sanità, dell'amministrazione, della giustizia e della pubblica sicurezza. Grazie a tutti.